Buon pomeriggio, ben trovati ancora da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Incidente con code a tratti in A1 tra Firenze Sud e Incisa Reggello, la direzione è quella per Roma. Code a tratti per traffico intenso, sempre in A1 tra Calenzano e Albivio A1, variante rivalico in direzione di Bologna. Ricordo in A1, nelle notti di lunedì e martedì 11, con orario 22.6, sarà chiuso il tratto compreso tra Calenzano e Barberino di Mugello verso Bologna, in alternativa dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Calenzano, percorrere la provinciale 8 Barberinese e rientrare sulla A1 a Barberino. Veniamo ai treni, per un inconveniente il treno 17717 Porretta-Pistoia è stato cancellato, viaggiatori che hanno utilizzato il treno straordinario in partenza appunto da Porretta. È tutto grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze. Grazie a tutti.